È un'esperienza che sicuramente è faticosa, però la motivazione è tanta perché c'è alle spalle la forte necessità di garantire il diritto alla salute, il diritto alle cure, l'accesso alle cure a chi ha più difficoltà a poterlo fare. Spesso purtroppo gli utenti che si rivolgono a noi sono persone straniere che per diversi motivi, che siano culturali, che siano politici, che siano burocratici, spesso hanno difficoltà ad accedere alle cure, per cui il servizio di prossimità si rende indispensabile a fine di poter garantire il diritto alla salute a queste persone.